Da giovedì 21 a lunedì 25 aprile il centro di Monfalcone sarà inondato di fiori grazie alla coreografica scenografia di aiuole e giardini collocati intorno ai gazebo e gli stand espositivi in Piazza della Repubblica e in altre vie del centro. Un vasto assortimento di piante aromatiche, piante d'orto, molti fiori ma anche alberi da frutta, arbusti e qualche sorpresa ma soprattutto anche tante novità. Certamente i bei Monfalcone su questo sono specialisti, infatti devo dire che il comune ha delle bravissime dipendenti che curano ogni mattina con arte oltre che con passione tutti i giardini di Monfalcone ed è per questo che ha avvoluto fortemente questa manifestazione per la quinta edizione consecutiva. Alberi da frutto e piante, verdi e fiorite per l'orto e per arredare la casa e il giardino, balcone o terrazzo, prodotti da bioagricoltura e concimi speciali ma anche quadri con soggetti floreali, fular in fibra di bambù e olio d'oliva direttamente dall'azienda agricola produttrice. I fiori, simbolo stagionale per eccellenza e tutto quanto fa primavera, saranno gli assoluti protagonisti dell'atteso evento florovivaistico che coincide con lo sbocciare della stagione delle fioriture e trasformerà ancora una volta per cinque giorni il centro di Monfalcone in un grande e splendido giardino fiorito. Vasto assortimento di piantine di peperoncino ma anche tante novità per le piante d'orto, nuovi colori per quanto riguarda i fiori, potuni, gerani, assortimento molto vasto di alberi da frutto e piante aromatiche e quindi credo che tutte le novità dell'anno si possono trovare. Piante grasse, alberi da frutto, piante aromatiche e molte altre novità del settore si potranno ammirare a Monfalcone in fiore nei giorni della manifestazione dalle 9 alle 20 in Piazza della Repubblica, Via Battisti, Piazza Cavour e Piazza dell'Unità d'Italia a Monfalcone. L'ingresso è libero. Gli espositori, voglio sottolineare, ci sono anche dei espositori locali ma sono espositori che sono provenienti anche dalla Lombardia, dal Veneto e anche dalla Sicilia. Appuntamento dal 21 al 25 di aprile a Monfalcone in Piazza Repubblica e le vie limitrofi.